Buongiorno cari amici, oggi ho voglia di esaltarmi per provare ad esaltarvi. In questi giorni vi ho raccontato delle storie, oggi invece voglio parlarvi di spettacolo, voglio parlarvi di gol e voglio parlarvi di bomber. Voglio parlarvi dei grandi attaccanti di un grandissimo club, ma un club che nell'ultimo ventennio ha trasformato se stesso e cambiato completamente il proprio Stato. Sto parlando dell'Atletico Madrid, oggi lo riconosciamo come uno dei 5-6 club più importanti del continente, questo dicono i risultati, questo ha portato il ciclo di Diego Pablo Simeone. Però l'Atletico 20 anni fa era sprofondato in seconda divisione, era una squadra lontanissima dai punti più importanti del calcio non solo internazionale ma anche solo spagnolo, era un club sull'orlo della bancarotta per cui è cambiato tantissimo negli ultimi vent'anni. E perché voglio parlarvi dell'Atletico attraverso i suoi grandi attaccanti? Perché in questo ventennio e direi nello specifico negli ultimi 15 anni dall'Atletico Madrid sono transitati dei bomber esaltanti, alcuni fra i migliori che si siano visti in Europa e in generale dei giocatori trascinanti. E perché l'immagine che abbiamo oggi dell'Atletico Madrid è quella di una squadra primariamente difensiva, di un gruppo arroccato, di grandi capacità di resistenza, addirittura di calcio non bello, così ho sentito dire più volte da diversi nel corso di questi anni. Allora per spazzare via completamente i luoghi comuni, per parlarvi dell'evoluzione veramente particolare, oltre che poderosa che ha avuto l'Atletico Madrid nelle ultime due decadi, vi parlo dei suoi attaccanti per farvi capire che l'Atletico Madrid non è stato solo spirito, coraggio, cuore, ma l'Atletico Madrid è stato tanti tanti gol, tantissimi super attaccanti. Allora voglio fare una sorta di top five, così tanto per dare una forma anche con non tantissimo senso a questo discorso. Lo sapete, io non sono un grande amante delle classifiche, delle comparazioni, però facciamo finta di parlare dei cinque principali attaccanti dell'ultimo ventennio dell'Atletico Madrid, una classifica che vi dico già ha anche un trucco perché comunque non fa parte del mio modo di vedere il calcio, però la mettiamo così. Ecco, i cinque più grandi attaccanti dell'Atletico Madrid degli ultimi vent'anni. Al quinto posto di questa graduatoria metto un attaccante che attualmente milita nell'Atletico ed è Diego Costa, una sorta di volto principale delle ultime stagioni, anche se Diego Costa che di gol per l'Atletico Madrid ne ha segnati 78 di cui 50 in campionato, ha vissuto tre cicli con la maglia dei Colcioneros, tre cicli molto diversi. Il primo era giovanissimo, era fondamentalmente nella stagione 10-11 la riserva della gran coppia Aguero-Forlan, non aveva molto spazio, segnò però una tripletta all'Osasuna che cominciò a inquadrarlo come un giocatore interessante, però poi andò via in prestito. Il suo ritorno è coinciso con il ciclo più importante di Diego Costa all'Atletico Madrid e anche i botti più forti sparati da Simeone, perché il biennio fra il 2013 e il 2014, quindi le due stagioni 12-13 e 13-14 sono state quelle della fioritura, dell'esplosione, del grande trionfo dell'Atletico Madrid. Prima con la Coppa del Rey conquistata storicamente al Bernabeu in finale contro il Real Madrid e poi con quella leggendaria Liga 13-14, la Liga vinta contro i Colossi, il Barça di Messi, il Real di Ronaldo, la rivoluzione ciolista che ha travolto la Spagna con Diego Costa appunto come centravanti, come totem offensivo. Diego Costa che andò in gol in quella finale di Coppa del Rey al Bernabeu, anche se poi il gol decisivo lo segnò Miranda e Diego Costa fu capocannoniere di quell'edizione della Coppa del Rey. La Liga 13-14 invece ci ha portato un'infinità di momenti decisivi per l'ispano-brasiliano. Il gol ancora al Bernabeu che ha deciso il derby, è stato il primo momento in cui l'Atletico Madrid ha dato un colpo a quella Liga. Eravamo ancora abbastanza inizio stagione, se non ricordo male attorno all'ottava non aggiornata, l'Atletico Madrid andò a vincere in casa del Real di Ancelotti e lì cominciò a costruire il proprio miracolo. Però in quella Liga ricordo anche un gol in rovesciata pazzesco segnato contro il Chietafe, uno dei gol più belli della stagione mondiale. E poi quell'anno ci fu anche la cavalcata in Champions League con la vendetta perpetrata dal Real Madrid. Però in quella Champions Diego Costa segnò otto gol ed era successo solo una volta che un giocatore dell'Atletico Madrid segnasse otto gol in una competizione internazionale. Era successo addirittura a Favà, al mitico brasiliano. Per cui Diego Costa è assolutamente da mettere nell'Olimpo dei grandi bomber dell'Atletico Madrid. Oltretutto poi è andato al Chelsea, ha vinto anche una Premier League con Conte, con cui c'è stato un rapporto molto difficile. È tornato nel 2018, qualche basso, qualche alto, ma Diego Costa è ancora lì e non si può che partire da lui per parlare dei grandi bomber, dei colcioneros. Sul quarto gradino, però già capite che è una classifica che vale quel che vale o voglia di parlarvi di questi attaccanti al di là del metterli in fila in una graduatoria. Al quarto posto metto Radamel Falcao Garcia e il Tigre. Falcao, quello che ha la media realizzativa più detonante che ci sia fra questi attaccanti che vi sto presentando, perché Falcao con la maglia dell'Atleti ha giocato due anni e ha segnato 70 gol in 91 partite, 36 nella prima stagione e 34 nella seconda. Erano gli anni ruggenti, gli anni in cui Falcao era assolutamente uno dei migliori centramanti del mondo. L'Atleti lo prese nel 2011 dal Porto, dove ha appena vinto l'Europa League, è arrivato all'Atletico Madrid e ha messo immediatamente il proprio segno anche nei trofei conquistati, perché Falcao all'Atleti è rimasto, come vi dicevo, due anni prima di essere preso a suon di milioni dal Monaco che cercava di fare un progetto che non è arrivato a compimento. Il primo anno Falcao è determinante per la conquista dell'Europa League, arriva in finale, segna una doppietta, vince la seconda Europa League di fila con due maglie diverse dopo averla vinta appunto con quella del Porto e come detto segna 36 gol. Nella sua seconda stagione ne segna 34, due in meno, ma ne segna tre nella partita che vale la Supercoppa Europea contro il Chelsea. Falcao prima di tutto era un animale del gol, un istinto primordiale, un istinto predatorio, ma anche un attaccante con uno stile incredibile. Prendete proprio i due gol che segna nella finale di Europa League contro l'Atletico Bilbao, dando all'Atletico il trofeo. Sono due gol che parlano di killer instinct, ma parlano anche di una capacità di coordinazione e di trovare tempi e spazi per il tiro unica al mondo in quel momento. E poi la sua potenza, la sua fame, i suoi graffi, giocatore veramente completo, giocatore stilosissimo, giocatore meravigliosamente prolifico, lo metto al quarto posto, ma Falcao in quegli anni e in generale nei momenti migliori della sua carriera non è mai stato secondo oggettivamente a nessuno. Ve l'ho detto che c'è un trucco in questa top 5 e il trucco lo svelo ora, perché al terzo posto ne metto due, metto una coppia, metto la coppia, la coppia formata dal Kun Agüero e da Diego Forlan, una coppia che in quattro anni ha partorito una quantità di gol impressionanti. Ne hanno segnati 96 a testa, ripeto, 96 a testa, nelle quattro stagioni in cui hanno convissuto con la maglia dell'Atletico Madrid, tra l'altro con un progetto di calcio molto interessante, perché parliamo di due punte vere, parliamo di due protagonisti assoluti, ma di due giocatori bravissimi anche nell'integrarsi con un compagno d'attacco. Oltretutto, tutti e due con un background alle spalle, marchiato dall'independiente, il club in cui Agüero è cresciuto e ha debuttato, stabilendo anche il record di giocatori più giovani a debuttare nel campionato argentino, a poco più di 15 anni, battuto anche Diego Armando Varadona, e l'independiente è un club da cui è transitato anche Diego Forlan, amandolo molto, facendosi amare tantissimo, per cui c'era una chimica e i due si sono trovati perfettamente, i movimenti del Kun, la sua rapidità, la sua capacità di galleggiare quasi sparendo e poi apparendo al momento giusto in area di rigore, e l'eleganza, la potenza elegante di Diego Forlan, i suoi movimenti a svariare, la sua capacità di girare attorno ed essere riferimento, una coppia d'attacco assolutamente perfetta, e infatti anche in quelli che sono stati i trofei che hanno vinto insieme all'Atletico Madrid hanno partecipato entrambi, perché se ricordate la Europa League vinta in finale col Fulham, doppietta del caccia Forlan con il gol decisivo nei tempi supplementari, la Supercoppa successiva, la Supercoppa europea del 2010, l'Atletico la vince contro l'Inter di Rafa Benitez e segna il Kun Agüero, segna anche Reyes l'altro gol, la perla di Utrera, così Antonio Reyes che fu il vero ombre del partito in quella Supercoppa e che cito sempre molto volentieri perché ci ha lasciato troppo presto ed è stato un giocatore meraviglioso, ma non posso veramente scindere, Agüero e Forlan per questo metto tutti e due al terzo posto, li metto come coppia, particolare anche il fatto che abbiano segnato lo stesso numero di gol nelle quattro stagioni in cui hanno convissuto, Agüero arrivava all'Atletico Madrid come un grande investimento su un giocatore molto giovane perché lui arrivò nel 2006, a 18 anni appena compiuti, usciva dall'indipendiente, aveva già dimostrato però era in qualche modo una scommessa mentre Forlan è arrivato dal Villarreal, giocatore che si era già consacrato anche a livello internazionale, tra l'altro traendo molte fortune anche da un altro suo socio importante al Villarreal, ovvero Juan Román Richelme, non un altro attaccante ma un fantasista che sapeva armarlo come nessuno e Richelme quando ha avuto la possibilità di giocare con un attaccante che aveva il fuoco dentro lo ha sempre alimentato alla perfezione, Forlan era uno che di fuoco poteva regalarne, due giocatori estremamente sanguigni, Rio Platensi, un argentino e un uruguaggio, la miglior coppia in assoluto che l'Atletico Madrid ha avuto nei tempi moderni, un'altra coppia paragonabile a quella formata da Agüero e Forlan era quella di fine anni Ottanta, Baltasar e Manolo, altre due grandi figure realizzative della storia dell'Atletico Madrid però parliamo dell'epoca precedente al grande crollo, non c'è stata più un'altra coppia così sincronizzata, così alta nei propri contenuti e così produttiva come quella formata da Agüero e Forlan. Veniamo ai due principali bomber di questo periodo dell'Atletico Madrid, quello che potrebbe essere il numero uno anche per valore individuale, insomma per tante cose io lo metto al numero due. Sto parlando del principito, l'Epetit Diable, Antoine Griezmann, uno che in cinque stagioni con l'Atletico Madrid dal 2014 al 2019 è sempre andato oltre i 20 gol stagionali, è quello che ne ha segnati più di tutti fra questi che vi cito perché ne ha messo il segno 133 in 257 partite con la maglia dell'Atletico Madrid. Peccato per il finale e questo è quello che fa la differenza, l'amore e il sentimento che lega la piazza dell'Atletico, una piazza molto particolare, una piazza che vive di un certo tipo di valori e il giocatore. Per questo Griezmann lo metto al secondo posto, anche se Griezmann all'Atletico Madrid, oltre ad aver segnato tantissimo, oltre ad essere stato il volto principale anche di grandi trionfi, penso anche solo all'Europa League del 2018, ma non solo questo, Griezmann all'Atletico con il ciolo ha avuto l'evoluzione che gli ha permesso di diventare uno dei giocatori più importanti del mondo, un candidato serissimo al pallone d'oro del 2018 che, mia personale forse trascurabile opinione, se fosse andato a lui non sarebbe stato assolutamente uno scandalo, detto che Modric è uno meritevolissimo di avere quel pallone d'oro in bacheca, l'avesse preso Griezmann, vincitore dell'Europa League, vincitore del mondiale, come giocatore principale perché poi si è parlato tanto di Mbappé, ma sommando gol e assist, Griezmann è stato il giocatore numero uno di quella Francia, non sarebbe stato sbagliato e la sua evoluzione sul campo è stata vissuta proprio all'Atletico Madrid, perché all'Atleti arriva come un giocatore già abbastanza consacrato, però come un attaccante esterno, tecnico, inventivo, molto prolifico, ma un attaccante esterno della Real Sociedad, che si era già fatto vedere in Europa, che in Liga aveva già fatto cose molto importanti, all'Atletico Madrid però diventa l'attaccante totale. Tra l'altro iniziando con qualche problematica, perché inizialmente faticava ad ingranare Griezmann, poi una super partita contro l'Atletic Bilbao, una tripletta attorno al periodo di Natale, lo hanno sbloccato e lo hanno fatto esplodere definitivamente, ma proprio nel lavoro con Simeone, anche passando magari a volte attraverso qualche leggera incomprensione, Griezmann è diventato un attaccante a tutto tondo, io continuo a vederlo come una straordinaria seconda punta, però addirittura può giocare attaccante principale, può giocare da armatore dell'attacco, che è il ruolo che ha tenuto nel Mondiale, vinto con la Francia, avendo davanti spesso Giroud e Mbappé, lui si abbassava, si faceva dare il pallone, diventava il conduttore, il leader tecnico assoluto della squadra e questa cosa l'ha maturata all'Atletico Madrid, diventando il secondo attaccante più importante dell'ultimo ventennio colcio nero, perché il numero uno non può che essere lui il più amato, il figlio di tutto il mondo atleti, ovvero il nigno, Fernando Torres. La cosa particolare di Fernando Torres, che ha segnato più di 100 gol in campionato per l'Atletico Madrid, è che ha vinto un solo trofeo con la maglia del suo cuore, l'Europa Ligue del 2018, alla fine della sua carriera. Nonostante due cicli veramente grandi, però è stato davvero il compimento, perché è una parabola particolare quella di Fernando Torres, lui che è esploso riportando l'Atletico Madrid dalla seconda divisione alla Liga, ha finito lasciandolo con un trofeo internazionale e prendendosi il primo all'oro. Ripeto, più di 100 gol nel massimo campionato con la maglia dell'Atleti e tra l'altro fu commovente il giorno del suo centesimo gol, con la dedica al suo scopritore, all'uomo che lo aveva portato lì. Perché il nigno, quando arrivò all'Atleti, era veramente un nigno, è cresciuto lì, si è proposto, è diventato grande, ha lasciato l'Atletico Madrid nel 2007 per andare a Liverpool, quando era uno degli attaccanti più eleganti, più belli che c'erano in giro. Poi proprio l'infortunio patito nei tempi inglesi è stato lo spartiacque della sua carriera. ha fatto ancora diverse cose, è riuscito anche a tornare all'Atletico Madrid, ha vinto con il Chelsea, però non era più lo stesso Fernando Torres, ha perso qualche punto di potenza e di velocità, perché la cosa che davvero colpiva di Torres era la capacità di essere così elegante, così prolifico, così maestoso, pur essendo un killer assoluto, dell'area di rigore. E all'Atletico Madrid lo sanno molto bene, oltretutto è sempre stato un esempio anche a livello di figura, a livello di attitudini, specialmente a casa sua per questo. Non può che essere Fernando Torres il numero uno assoluto dei bomber dell'ultimo ventennio dell'Atletico Madrid. Io sono convinto che ve li ricordaste tutti, perché sono state veramente figure enormi, giocatori che anche con altre maglie hanno fatto la storia, ma che con quella dell'Atletico Madrid hanno messo marchi importanti. Però mi andava di ricordarveli un po', perché parlare di attaccanti, parlare di gol, è sempre un bel modo per cominciare la giornata. Un po' perché, appunto, amo rompere i luoghi comuni. E allora questo Atletico Madrid roccioso, questo Atletico Madrid difensivo, questo Atletico Madrid brutto e anche un po' speculativo, come fa ad avere avuto negli ultimi vent'anni, anche meno, negli ultimi quindici attaccanti di questo calibro? Semplicemente perché il calcio va visto un filino più in profondità, il calcio è un gioco, è un gioco, può essere giocato in diversi modi, un gioco ben fatto è una cosa, un gioco mal fatto è un'altra, però poi sugli stili si può dibattere alla fine. Quel che conta è il risultato, e il risultato lo definiscono i gol l'Atletico Madrid con questa gente in questi anni di gol, ne ha segnati veramente tanti.